del convegno, doppio chilometro, al comando si porta Lavinia Griff galoppa per un attimo il numero 5, Light My Fire, adesso sbaglia definitivamente e finisce a tabellone Lavinia in vantaggio nei confronti, a largo del numero 9 Luper Veda, mentre sbaglia il 3 e anche il 4 Lorenz Almar e Last Superlux, entrambi in errore Lavinia Griff in vantaggio nei confronti Luper Veda, poi il numero 1 Lasco che precede l'8 precede il 6, l'Harry Potter 34-1 i 400 a tabellone sono finiti, il 5 Light My Fire, il 3 Lorenz Almar, l'8 Lady Online DSE in chiaro vantaggio c'è Lavinia Griff, la figlia di Varene Romino Key che ha 3 di margine nei confronti del favorito Luper Veda e Sam, poi l'Asco che precede l'Harry Potter, ancora l'Anglo e Man, Lucas B a chiudere davanti alle tribune i due più attesi lì davanti con Lavinia battistrada in seconda posizione Luper Veda a largo numero 4 Last Superlux che è anticipato da Luper Veda l'ondatura non particolarmente brillante quella imposta da Lavinia che adesso sollecitata da Luper Veda accelera, poi l'Asco a largo Last Superlux che precede il 10 Lucas B poi l'Harry Potter e l'Anglo e Man retta opposta, Lavinia accelerato in scia alla figlia di Romino Key c'è sempre Luper Veda frazione in 14-7 in terza posizione, non li perde di vista il numero 1, l'Asco che si trebbe in avanti al resto del gruppo poi avanza Lucas B che prova il recupero piegata conclusiva 400 al palo frazione in 14-1 in vantaggio Lavinia Griff in seconda posizione Luper Veda SM in terza L'Asco poi gli altri si entra in dirittura di arrivo Lavinia Griff Gianpaolo Minucci si dono a difendere Lavinia Griff da SM Enrico Bellay la lotta tra i due più attesi Lavinia che ha una di vantaggio su Lavinia Griff è attaccata la Luper Veda SM che prova l'attacco a largo Lavinia che ha ancora mezza di vantaggio su Luper Veda Lavinia Griff Luper Veda L'Asco 14 l'addirittura di arrivo Lavinia Griff Lavinia Griff